Quello che andiamo a vedere ora è un'interpretazione, un minimo più teoricamente basata, di che cos'è questo x quadro. In realtà l'x quadro è una variabile che si dovrebbe distribuire secondo una distribuzione che si chiama chi quadro. Quel simbolo che vedete disegnato lì che sembra una x, in realtà è un chi quadro. La ragione è che se io ho una variabile q, che è la somma di tante variabili x con i elevati al quadrato, questa è la distribuzione della variabile q, è una... scusate, la distribuzione della variabile q è la distribuzione del chi quadro. Questa è una famiglia, è una curva monoparametrica, dipende da un solo parametro, che è chiamato grado di libertà k, fa parte di una serie più grande di distribuzioni di probabilità, che sono quelle delle distribuzioni gamma. La distribuzione del chi quadro ha questa forma che vedete qui, non pretendo che ve la... ricordiate a memoria, io non la riesco mai a ricordare a memoria, ma forse perché sono più anziano di voi, magari voi ci riuscite, è 1 su, come vedete, diviso 2 alla k mezzi per gamma di k mezzi, dove gamma è la distribuzione completa di gamma completa di k mezzi, per x alla k mezzi meno 1 per e alla meno x mezzi. Questo per x maggiore di 0, per x minore di 0 questa è 0, quindi è una funzione che è definita solo nell'asse positivo. In realtà per valori di k moderatamente alti, vorrei dire già per k uguale a 5 e k uguale a 6, questa distribuzione è difficile, è difficilmente distinguibile da una distribuzione gaussiana. La sua distribuzione accumulata, cioè l'integrale di questa distribuzione, si può calcolare in funzione della funzione gamma, distribuzione gamma, che vedete, come vedete rappresentato nella seconda formula, in cui al numeratore c'è la gamma incompleta di k mezzi, x mezzi, e sotto c'è la gamma completa di gamma mezzi, sulla quale magari ritorneremo in seguito. Comunque questo per dire che c'è una formula analitica con cui questo chi quadro si determina. La funzione gamma incompleta a sua volta è definita attraverso un integrale. In realtà noi non sappiamo calcolare esattamente in forma chiusa l'integrale che sta sulla destra. Sicuramente i vostri insegnanti di calcolo vi hanno mostrato delle funzioni simili a queste, vi hanno detto provate ad integrarle, facendovi uno scherzo e mostrandovi che questa funzione non era integrata. La funzione gamma incompleta in particolare è l'integrale fra 0 e un valore limite z, nella precedente slide era chiamato x, mi pare. La funzione gamma completa invece è funzione semplicemente di un parametro interno dell'integrando, come vedete è l'S che sta nell'esponente della variabile di integrazione t. Ora il fatto che noi questa, se volete fare una piccola divagazione, il fatto che noi non sappiamo calcolare questo integrale in maniera esatta, non significa che questo integrale non sia importante. È così importante che gli è stato dato un nome. E poi ovviamente sono stati affrontati vari metodi numerici per approssimare il valore di questo nome. I valori di questo nome. Questo accade anche per il logaritmo, per esempio, voi non siete in grado di calcolare a mano così il logaritmo in base naturale, per esempio di 367. Avete o delle tavole dei logaritmi oppure li calcolate attraverso un metodo numerico che fortunatamente è implementato anche nelle calcolatrici più semplici e che quindi vi dà i valori rilevati. Questo vale lo stesso per la funzione seno, per la fusione coseno. Quindi non è così straordinario il fatto che noi non si abbia una forma chiusa di questa funzione. Una volta però che abbiamo idea che si possa calcolare, possiamo esprimere, per così dire, altre funzioni in funzione della funzione gamma, come accade nel caso della chi quadro. Spegniamo questa divagazione per andare a vedere come è fatto il chi quadro. Questa è, sono, in alto vedete la funzione di distribuzione, in basso la sua accumulata. è un solo parametro e in particolare la moda è una funzione unimodale e la moda del valore si posiziona per k-2. Quindi k uguale a 5, che è la curva violetta e più in avanti, ha il suo massimo a 3. Per k uguale a 10, nonostante questa curva, questa curva tende a diventare molto più simmetrica e molto più simile a una gaussiana, anche se ovviamente la gaussiana sarebbe definita per valori negativi della scissa. Ma le approssimazioni sono approssimazioni, appunto, e a volte ci si può accontentare di approssimazioni sufficienti per descrivere i dati di cui abbiamo bisogno. Le cose che sono importanti per noi in una distribuzione, ve le ho già elencate in precedenza, sono il valore atteso, ovvero la media. Qual è la media di questa distribuzione? Beh, la media di questa distribuzione è esattamente k, il grado di libertà. La varianza di questa distribuzione è 2k, due volte il grado di libertà, mentre la moda di questa è k-2, cosa che abbiamo verificato nella slide precedente, per cui k uguale a 5 ha la sua moda sul 3, e così via per gli altri elementi. E volendo espandere un po' di più il discorso che avevamo fatto nella sequenza di lezione precedente, che cosa mi sta a indicare, a descrivere la funzione del chi quadro? Prima noi abbiamo calcolato un x quadro, che è una somma su k, di che cosa? Di valori osservati meno valori attesi diviso il valore atteso. In particolare il valore osservato meno il valore atteso al numeratore e anche al quadrato. Il valore osservato per noi era la funzione empirica cumulativa, il valore atteso era il valore della distribuzione ottenuta interpolando i dati. Il valore dell'x quadro che noi abbiamo ottenuto era 1, un singolo valore per ogni coppia di parametri. Allora, come si concilia questo fatto che noi abbiamo un solo numero e cui stiamo parlando di distribuzioni? Beh, se noi ipoteticamente avessimo ripetuto la nostra analisi su altri campioni di dati relativi a quel fenomeno però, quanti campioni di dati? Infiniti campioni di dati? Noi avremmo ottenuto che il nostro x quadro si distribuisce secondo la distribuzione del chi quadro. In realtà noi abbiamo un solo campione in questo caso, un solo numero. però ciò non toglie che noi possiamo ragionare in funzione della ripetizione dell'esperimento. Questo è un concetto che è piuttosto comune in analisi statistica. Si ha un solo campione, ma si pensa che si possa, che questo derivi da una popolazione più ampia e si possono in teoria fare infiniti campioni di questa distribuzione. cosa succede allora? Se i dati riproducono perfettamente l'ipotesi, cioè se la curva che abbiamo interpolato riproduce esattamente i dati, il nostro chi quadro è uguale a zero. Se voi vi ricordate in precedenza, io vi avevo detto, mi aspetterei con la suddivisione che io ho fatto di avere lo stesso numero di valori in ogni intervallo, perché avevo scelto sull'asse delle ordinate, cioè delle probabilità, degli intervalli equispaziati. e quindi mi aspetterei di ottenere chi quadro è uguale a zero. In realtà, questa teoria mi dice che il valore più probabile non è zero, è la moda che in questo caso, per esempio, che vedete rappresentato il k uguale a 5 è uguale a 3. Quindi, con una suddivisione in cinque intervalli, io mi aspetto che il valore più probabile di x quadro sia uguale a 3. Può succedere che in alcuni casi io ottengo dei valori di x quadro molto elevati. Per esempio, che si trovano in quella zona che vedete segnata in grigio in questa curva. Questa zona segnata in grigio rappresenta il 5% più alto, rappresenta un'area del 5%, l'area in bianco sotto la curva è il 95%. Il fatto di stare nella zona grigia può significare due cose differenti. Una che effettivamente è un campione realistico, però ho beccato una combinazione di dati, una serie di dati particolarmente sfortunata. L'altra semplicemente può significare che io non ho interpolato correttamente, non ho fatto un'ipotesi probabilistica corretta, non ho usato la corrette curve di distribuzione per interpolare i miei dati. Tradotto nel nostro caso, questo significherebbe che le curve di Goomber che ho usato non vanno bene. Dovrei usare un'altra distribuzione, per esempio. quello che si fa quello che si fa è quindi di dire di escludere il caso di di essere particolarmente sfortunati, ci riteniamo fortunati, però a questo punto diciamo che i dati provengono da un'altra distribuzione. Se lì il chi quadro, l'X quadro è elevato, in particolare si trova in questa regione grigia che supera il 95%, possiamo dire che con il 5% di confidenza noi rigettiamo l'ipotesi che la nostra che i nostri dati si distribuiscono secondo la distribuzione di Goomber. il linguaggio è un po' involuto ma il concetto è questo. L'operazione che noi abbiamo fatta si chiama test delle ipotesi. Abbiamo fatto l'ipotesi che i nostri dati fossero distribuiti secondo una distribuzione di Goomber. Abbiamo applicato il test di Pearson e usando la distribuzione del chi quadro siamo andati a vedere se è realistico. La procedura che abbiamo implementato è del tutto oggettiva cioè ci sono dei passaggi matematici mi costruisco la mia curva del chi quadro vado a vedere se il mio dato si trova nel 5% superiore delle possibilità e se questo succede rigetto l'ipotesi che i miei dati si distribuiscano secondo la curva di distribuzione di Goomber. In realtà la procedura è oggettiva ma tuttavia la soglia di valori che io ho scelto è del tutto arbitrario infatti io ho messo qui la zona grigia nel 5% superiore ma perché non scegliere l'1% superiore o lo 0,1% superiore la scelta del 5% o dell'1% come talvolta si va è del tutto convenzionale ed è contenuta nella frase quando dico con il 5% di confidenza rigetto l'ipotesi cioè io non ottengo un risultato sicuro ottengo un risultato probabilisticamente accettabile con fatta una certa ipotesi in verità la statistica l'analisi statistica non è in grado di distinguere il falso dal vero con certezza tutto tutta questa procedura è frutto di un accordo in qualche modo che noi abbiamo fatto che abbiamo stipulato tra di noi cioè che il 5% superiore si debba considerare proveniente da un'altra distribuzione ma non è assolutamente la verità potrebbe essere appunto come ho accennato prima il fatto che noi abbiamo un dato che è anomalo in realtà il 5% non è così superiore non è una quantità così piccola per esempio noi nel calcolo delle nostre curve di possibilità pluviometrica andiamo a considerare probabilità che hanno 100-200 anni di tempo di ritorno per esempio 10 anni di tempo di ritorno vorrebbe dire superiore nel 0,1% superiore 100 anni nello 0,01% superiore quindi ci sono condizioni in cui questa condizione del 5% superiore non è non è un caso accettabile e questo comunque lo dobbiamo sapere dobbiamo applicare possiamo applicare questa procedura possiamo applicare questa procedura dobbiamo sapere quali sono i momenti di arbitrarietà quando noi la utilizziamo cosa succede dunque in pratica in pratica succede che assegniamo il grado di confidenza C e poi andiamo a vedere qual è la probabilità che qual è il valore x quadro critico qui l'ho chiamato rispetto al quale questa probabilità è superata questa si valore di C è superato nel momento in cui ho x quadro ho l'x quadro che ho chiamato critico se il mio valore di x quadro è superiore al valore critico allora rigetto l'ipotesi l'ipotesi 0 si chiama o nulla ipotesi in inglese cioè che le rigetto l'ipotesi che i miei dati siano distribuiti secondo la distribuzione che io ho assegnato viceversa si accetta l'ipotesi in statistica non si per qualche ragione anche storica non si dice mai che si accetta l'ipotesi che i dati siano distribuiti secondo una certa distribuzione ma si dice non si può rigettare l'ipotesi con un grado di confidenza pari al 5% se ho dovrei fare questa analisi in realtà ingegneristicamente io accetterò il dato con l'x quadro più piccolo se l'x quadro fosse superiore all'x quadro all'x quadro critico dovrei dire dovrei tentare rifare tutta la procedura invece che con la distribuzione di Gumbel per esempio con un'altra distribuzione e questo anche può accadere e in caso di particolare interesse deve essere fatto per essere più sicuri oppure si può argomentare sul fatto che i dati possono essere presi male errati quando questa cosa non succede alcune domande comunque il vero ingegnere se le deve fare o il vero matematico o il vero statistico e con questo abbiamo chiuso anche questa questa parte è